Musica Covid ancora 20 morti in un giorno nelle marche, netto calo e positivi al virus e ricoveri negli ospedali. Domani arriva il generale Francesco Paolo Figliuolo. Si siede sui binari con l'intento di farla finita, 48enne fanese salvato dai carabinieri. Oggi il ritorno sui banchi di scuola, tutti in presenza fino alla terza media, le superiori al 50%. Per andare avanti intanto per la spiegazione, tipo per seguire c'è una concentrazione maggiore rispetto a quello di casa. Più sicurezza sui bus e nelle fermate, con gli steward privati assunti da Adribos per aumentare i controlli ed evitare gli assembramenti. Prima il Covid, poi il maltempo, ripartenza difficile per il mercato in piazza 20 Settembre a Fano. Ambulanti sconsolati ancora delusi per la perdita dei fatturati e la mancanza di ristori. Si spera un po' anche nel caldo perché qui noi non è che dobbiamo combattere con la pandemia, se abbiamo il tempo. Scuole sicure al via da domani lo screening organizzato dal comune di Pesaro. Si parte dagli 800 studenti delle prime medie e due le strutture mobili che faranno tappa negli istituti della città. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito, purtroppo sono 20 decessi legati al Covid avvenuti nelle Marche nelle ultime 24 ore, di cui 8 della provincia di Ancona e 5 del Maceratese. In totale le vittime sono 10 uomini e 10 donne tra i 61 e i 98 anni. Tutti con patologie pregresse tranne un anziano di 92 anni di Camerano. Due i decessi avvenuti nella provincia pesarese. Sono morti un'87enne di Pesaro e un'anziana di 98 anni di Gabiccemare. È in calo invece il rapporto tra i positivi al coronavirus e i tamponi processati, quasi 3.200. I casi registrati sono 286. Il numero più alto è stato rilevato in provincia di Pesaro Urbino con 128 positivi. Seguono quelle di Ancona, Scolipiceno, Macerate e Fermo. 17 i contagiati provenienti da fuori regione. Nell'ultima giornata c'è stato anche un netto calo delle persone ricoverate per Covid, a meno 27 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva scendono a 139, mentre quelli semintensiva a 208. Alto, infine, il numero di dimessi nell'ultima giornata, ben 67. E adesso all'apertura delle scuole. Questa mattina sono tornati in classe circa 40.000 studenti nella provincia di Pesaro Urbino, ma le superiori hanno riaperto con le lezioni in presenza al 50%. La preside della Torelli ci racconta che è mancato il contatto umano. Eravamo preoccupati per le conseguenze psicofisiche dei ragazzi. E' suonata di nuovo la campanella negli istituti delle Marche. Oggi, dopo mesi di didattica a distanza nella provincia di Pesaro Urbino, sono tornati in classe circa 40.000 studenti, tra scuola delle infanze, elementari, medie e superiori. A 100 fino alla terza media, i più grandi invece ripartono a turni, metà in aula e l'altra metà a casa, collegati attraverso tablet e PC. Uno sforzo organizzativo importante per garantire a tutti le stesse opportunità. E questa mattina, all'uscita da scuola, la maggior parte dei ragazzi si è dimostrata entusiasta. Com'è andato questo rientro a scuola? È andato a posto. Preferite la didattica in presenza o a distanza? Sì, a distanza perché così siamo tutti messi nelle stesse condizioni, però in presenza perché allo stesso tempo possiamo uscire da casa. No, si sta bene, comunque non si sente la differenza, è stata anche improvvisa, ma ci si abitua, ci siamo già passati una volta. E adesso così fino alla fine dell'anno scolastico, pensate? Un po' a casa, un po' a scuola? No, comunque va bene. Diciamo che questa modalità che la scuola ha adottato funziona, meglio di una settimana sì e una settimana no. Vi sentite comunque sicuri con queste modalità e anche il rispetto delle norme anti-Covid? Sì e no, dipende. Avete ancora un po' timore dei contagi? Beh sì, quello sì, però per andare avanti intanto per la spiegazione, per seguire c'è una concentrazione maggiore rispetto a quello di casa. Qualcuno è già stato interrogato oggi? No, è andata bene. Com'è andata oggi questo rientro sui banchi? Bene, siamo contenti anche perché era da molto che non venivamo a scuola, è stato un po' come il primo giorno. Qualcuno ha interrogato? No. Niente compiti in classe? No. Quindi è andata bene oggi? Sì, tutto bene. Preferite questa modalità comunque che parte della classe può rientrare a scuola? Beh, almeno sì, rivediamo i compagni, sarebbe preferibile ovviamente tornare al 100%, ma vista la situazione questo è meglio che sono riusciti a fare, quindi sì. È stato difficile questo periodo? Eh, un po', un po', però ci siamo tutti comunque in contatto con i gruppi WhatsApp, così le chiamate, e sì, si va avanti. Quindi per o male la tecnologia vi ha aiutati? Sì, sì, a voglia, cioè è stato molto importante anche per mantenersi in contatto. Come nelle altre scuole secondarie di secondo grado, a liceo scientifico Torelli si continuano ad osservare le misure anti-Covid. Qui sono state attivate cinque entrate diverse, con orari di ingresso scaglionati. Nei due plessi di Fano e Pergola è stato posizionato un sanificatore per ogni piano per un costo complessivo di 20.000 euro. E poi mascherine geligenizzando ovunque e sempre a disposizione dei ragazzi. Intanto le chiedo come è stato questo rientro in classe per voi docenti, per lei preside, ma anche per gli studenti che dopo tante settimane di didattica a distanza oggi hanno fatto per il 50% il loro ritorno a scuola. Diciamo che gli studenti sono stati contenti di rientrare perché finalmente si riappropriano della loro dimensione delle relazioni scolastiche, della relazione con i docenti, della loro dimensione di scuola, vera e effettiva. C'era questa mancanza del contatto umano? C'era, c'era, c'era. C'era anche una grossa preoccupazione da parte mia e da parte dei docenti rispetto alle conseguenze che questo prolungamento della didattica a distanza stava dimostrando, diciamo dal punto di vista dell'equilibrio psicofisico dei ragazzi. È difficile gestire l'altra metà della classe a casa collegata attraverso il PC? No, oramai questa modalità è entrata a sistema, purtroppo, per fortuna non lo so, però diciamo che i ragazzi e i docenti si sono impratichiti rispetto a questa dimensione e quindi il 50% di ciascuna classe è in presenza, il resto è a casa che segue secondo lo stesso orario. Noi abbiamo ridotto la durata dell'unità oraria consentendo la disconnessione gli ultimi dieci minuti per ogni ora. Quindi avete comunque garantito degli accessi contingentati, anche dei percorsi separati, ovviamente tutte le norme che ormai conosciamo a memoria? Tutto ciò che era già stato avviato e sperimentato a inizio anno, e quindi accessi diversificati con orario scaglionato, questo soprattutto per la sede di Fano, dove l'utenza supera le 800 persone. E con l'aria apertura delle scuole sono stati presi dei provvedimenti anche per i trasporti pubblici. Adria Bus ha coinvolto la vigilanza privata per aumentare i controlli ed evitare gli assembramenti alle fermate. Steward private in campo per controllare il rispetto delle norme anticontagio è la novità introdotta da Adria Bus in vista del rientro in classe in tutta sicurezza. Con la riapertura delle scuole l'obiettivo è quello di evitare assembramenti alle fermate e sui mezzi di trasporto pubblico locale. Per questo l'azienda ha predisposto un bando di gara per raccogliere manifestazioni di interesse da parte delle agenzie di vigilanza. Ad illustrare le nuove modalità è il direttore generale Massimo Benedetti che ieri ha partecipato al tavolo di coordinamento in prefettura. Abbiamo ricercato tra le categorie delle società che prestano dei servizi di vigilanza, e quindi questi nuovi soggetti andranno a incrementare le risorse disponibili per le verifiche alle fermate, in modo che eventualmente le nostre invece le metteremo a bordo per verificare l'attenzione all'utilizzo della mascherina, al personale, ai viaggiatori che sono a bordo e comunque anche al controllare che il viaggio si svolga nelle migliori condizioni, comprese quelle del controllo del biglietto dell'abbonamento. Quanti sono ad oggi questi operatori? I operatori nuovi da lunedì prossimo saranno 10, in aggiunta ai 10 nostri che mediamente teniamo sempre in giro per verificare la corretta regolarità del servizio. Il piano, spiega il direttore, non è definitivo. In base alle necessità interverremo dove sarà necessario, ha detto. Intanto sono stati confermati 22 mezzi di trasporto in più rispetto agli oltre 280 già garantiti per i servizi ordinari. Abbiamo ripreso con le stesse modalità operative con cui ci siamo fermati l'ultima volta. Era già un servizio che era stato abbastanza collaudato, non aveva presentato particolare criticità e anche oggi le notizie che abbiamo confermano che il sistema regge con questi numeri. regge benissimo. Problemi familiari ed economici, questi motivi per i quali un fanese di 48 anni aveva deciso di farla finita. Lo hanno salvato la prontezza di intervento e il coraggio dell'equipaggio del pronto intervento del radiomobile fanese. Erano da poco passate le ore 22 di venerdì scorso quando alla centrale operativa era arrivata una segnalazione con la quale si richiedeva l'intervento per un uomo che si trovava alla stazione ferroviaria di Fano con l'intento di togliersi la vita lanciandosi sotto il primo treno in transito. La segnalazione era stata fatta da un amico del 48enne che aveva ricevuto poco prima da parte sua un messaggio sul telefonino nel quale risultava chiara la sua volontà. I militari giunti sul posto sono riusciti a individuare l'uomo seduto sulla banchina con i piedi appoggiati sui binari. In quel frangente l'interfono della stazione segnalava un treno merci in transito proprio sul binario 2. mentre uno dei carabinieri lo ha distratto l'altro militare lo ha raggiunto da dietro senza farsi accorgere lo ha bloccato e trascinato fuori dalla zona di pericolo. Di lì a poco è transitato appunto il treno merci. Una volta messo in sicurezza il fanese è stato affidato alle cure del 118. Ancora cronaca, furgone in fiamme sulla 14 oggi pomeriggio alle 14.45 all'uscita del casello all'altezza dell'uscita del casello di Loreto esattamente al chilometro 244. Il conducente di Porto Sant'Elpidio per fortuna ne è uscito illeso. L'uomo non appena ha visto il fumo uscire dal cofano ha fermato il mezzo al lato della strada, è sceso ed ha allertato i pompieri. In poco tempo sono intervenuti i vigili del fuoco di Osimo che con non poche difficoltà sono riusciti a spegnere il rogo. Infatti il furgone che trasportava materiale farmaceutico era completamente coibentato in mezzo e andato completamente distrutto. Ed ora parliamo dell'ondata di maltempo annunciata dalla protezione civile che ha portato le nevicate primaverili fino a bassa quota. L'area fredda di origine artica che ieri aveva determinato un peggioramento con temperature in forte calo oggi ha portato rovescio e fiocchi di neve sia nell'introterra che sulla costa come a Fano e Pesaro. Ha avvistata anche una tromba marina a largo di Rimini e Pesaro. Ecco la quale vedete in questa fotografia. Da domani, secondo gli esperti di geometri.it, le condizioni andranno a migliorare con attenuazione dei venti freddi, temperature in progressivo aumento, specie nei valori massimi, ma ancora con diffuse gelate notturne. E il maltempo ha rovinato gli affari degli ambulanti che oggi sono tornati in piazza 20 settembre a Fano grazie al passaggio delle Marche in zona arancione. Sentite. Non è stato un buongiorno? No, non è un buongiorno questo, dai. Ci si mette anche il tempo, non basta solo la chiusura. Dopo ci si mette anche questo, è paziente. Si chiude e si torna a casa. Brava. E' così purtroppo. Questo è. Gli ambulanti tornano a riempire il centro storico di Fano. Dopo lo stop imposto dal governo, con le misure restrittive, la zona rossa oggi è ripartito il mercato settimanale. Purtroppo in tarda mattinata, la pioggia mista a neve ha costretto gli operatori a chiudere le bancarelle e a tornare a casa. Nelle prime ore, invece, è stata comunque scarsa l'affluenza, anche se d'altra parte è tanta sia la voglia che la necessità di ripartire nel rispetto delle regole. La pioggia, no, ovviamente non aiuta. È fatalmente freddo che neanche più temerari si sono mossi, però vabbè, dai. Quindi decidete di chiudere prima questa mattina? Eh sì, non c'è più gente. La zona rossa vi ha penalizzati per un mese? Sì, siamo rimasti a casa, anche se la zona arancione è uno stare qui senza lavorare, però perché non c'è gente, ribadisco. Anche gli spostamenti che sono vietati non vi aiutano? No, assolutamente no. Con la gente solo del centro è meglio di niente, ribadisco, perché quel poco è meglio veramente di niente, ma è sempre veramente poco. Se prima c'era mille persone e le dividevi per 300 banchi, adesso ci sono 100 persone e le dividi per 400 banchi. E questa è una situazione catastrofica. In ristori invece avete ricevuto degli aiuti da parte dello Stato? Si può dire che forse aspettiamo ancora quelli dell'anno scorso? Sembrerebbe che quest'anno, per questo mese che siamo stati fermi, non ci siano ristori per i commercianti, per gli ambulanti. Alla fine su una perdita di 10-12 mila euro, uno piccolino piccolino, facendo giusto una media così approssimativa, mille euro, a cosa ti servono? Siamo sempre, e comunque secondo un sondaggio fra di noi, lo sbaglio è stato non fare come la cena. Chiudevano due mesi, tre mesi e forse ci saremmo salvati da una catastrofe. Secondo me neanche lo sapevano, che i mercati erano aperti. Quindi 40 giorni che siamo a casa, col tempo buono, e oggi è così. Si spera nelle prossime settimane? Si spera un po' anche nel caldo. Purtroppo il tempo non ci aiuta, siamo contentissimi che abbiamo riaperto, e speriamo che sia l'ultima riapertura, perché non è possibile fare come abbiamo fatto, tre, quattro settimane chiuse, e non è cambiato niente. Quindi speriamo che questa sia l'ultima riapertura, è stato un bagno di sangue. I ristori li ha ricevuti? No, i ristori non li ho ricevuti, e comunque riceverò una piccolissima parte per il fatturato che ho perso. Ma noi ambulanti non chiediamo i ristori, noi chiediamo di lavorare perché siamo all'aria aperta, visto che comunque è stata una zona rossa dove era tutto aperto, come se nulla fosse, gente a spasso, quindi una zona rossa, diciamo, farlocca. E invece qua comunque riuscite a garantire le norme anticontagio, quindi a rispettarle? Sì, riusciamo a garantirle, anche perché poi purtroppo non è che c'è molta gente, e siamo comunque all'aria aperta, tutti con la mascherina, abbiamo il gel, e quindi insomma è in sicurezza il mercato. È guarito dal virus ed è stato dimesso dall'ospedale Carlo Urbani di Iesi, dove era ricoverato da quasi un mese Alfredo Cesarini, sindaco di Santa Maria Nuova in provincia di Ancona. L'amministratore si era ammalato dopo aver scelto di cedere la sua dose di vaccino a un funzionario comunale esposto al pubblico. La fine di un incubo ha scritto oggi su Facebook il primo cittadino. Sono stati giorni duri, difficili, carichi di tensioni fisiche e psicologiche. Finire all'ospedale e vivere l'esperienza della positività, il Covid è qualcosa che ti scalfisce l'anima ancora prima che il fisico. Ho avuto la disgrazia, ha raccontato Cesarini, di passare un giorno e una notte intera al pronto soccorso in una camera con un trentenne, con il casco per la respirazione forzata. È stato un incubo che ancora mi perseguita. I rumori del respiratore, le sofferenze e i lamenti che mi sono rimasti dentro. Ieri il sindaco è tornato a casa con la croce gialla. Dopo 27 giorni ha detto finalmente la luce sia accesa, il mio angelo custode è sempre lì vigile. Ma ora è tempo di guardare avanti e di riprendersi la vita. Il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, il generale Francesco Paolo Figliuolo e il capo del dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio domani saranno nelle Marche. che parteciperanno alle ore 10 all'inaugurazione del nuovo punto vaccinale di Macerata. Poi intorno alle 11 visiteranno il punto vaccinale di Ancona, allestito nell'impianto sportivo Paolinelli. Saranno accompagnati dal presidente della regione Acquaroli e dall'assessore alla sanità Filippo Saltamartini. La visita terminerà a Palazzo Raffaello dove si terranno incontri con la giunta regionale e i prefetti delle Marche. Ci spostiamo a Pesaro dove da domani ripartono i tamponi nelle scuole medie. Due strutture mobili faranno tappa nei vari istituti della città. Filippo Pucci Riparte dalle medie il modello scuole sicure lanciato dal comune di Pesaro. Da domani fino a sabato 10 aprile è in programma il terzo screening anti-Covid-19 agli studenti della città. Occorre monitorare gli alunni, ha commentato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. I giovani infatti sono fuori dalla campagna perché fino ai 16 anni non verranno vaccinati e da 17 anni in su lo faranno a danno scolastico terminato. Lo screening è una fotografia del momento, ha spiegato il primo cittadino, e per questo andrebbe ripetuto periodicamente. È un'operazione che dovrebbe essere fatta dallo Stato o dalla Regione, ma a Pesaro, per la terza volta consecutiva, verrà organizzata dall'amministrazione comunale. L'8, 9 e 10 aprile sono le tre date scelte per i tamponi rapidi che la macchina organizzativa svolgerà nelle secondarie di primo grado in collaborazione con diverse associazioni e volontari del territorio. Il calendario partirà domani, data durante la quale due postazioni itineranti eseguiranno i tamponi rapidi agli studenti delle prime medie. Ritmi intensi garantiti dalla doppia squadra operativa negli istituti, quella guidata dalla Croce Rossa italiana, Comitato di Pesaro, e quella dell'AIL che, con mezzi mobili, raggiungeranno i vari plessi scolastici garantendo la copertura completa degli oltre 840 alunni. Lo screening poi proseguirà venerdì e sabato per i circa 1.700 studenti delle seconde e terze classi. E sempre a Pesaro si concretizza l'operazione Sport Sicuro promosso dal Comune. Ieri la società sportiva direttantistica Muraglia Calcio ha effettuato i primi tamponi rapidi. I giovani della Juniors e della prima squadra si sono sottoposti a testa. Da marzo l'amministrazione aveva distribuito gratuitamente alle 35, tra società sportive e palestre della città, circa 2.600 test rapidi. Il monitoraggio costante, ha detto l'assessore a benessere Mila Dell'Adora, è il metodo più efficace per garantire lo svolgimento dell'attività in sicurezza, sia per coloro che sono autorizzati ad allenarsi o fare gare, sia per tutelare chi è in attesa di poter ripartire e tornare presto alla normalità. E dentro la fine di aprile saranno completati i lavori della nuova tribuna ospiti dello Stadio Mancini a Fano. Intanto sono stati posizionati i plinti di fondazione per le quattro nuove torri di illuminazione che verranno installate successivamente. Le attività di ammodernamento sono partite fino a autunno e rientrano nel primo stralcio approvato dall'amministrazione comunale per rispondere all'esigenza prioritaria di adeguare la struttura che ospita le partite casalinghe dell'Alma Juventus-Fano. E anche questa sera diamo spazio alle vostre segnalazioni, atto di vandalismo nel quartiere Poderino a Fano. Un nostro reporter di strada oggi ci ha inviato queste fotografie della pensilina di Vialetaglia che mostrano il prima, che lo vedete qua, e poi il dopo. Infatti la pensilina era stata ripulita e riverniciata giusto venerdì scorso, ci ha scritto il telespettatore, ma qualcuno ha ben pensato di imbrattarla senza il rispetto, quindi per la cosa pubblica. E con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione, sempre in diretta domani mattina alle ore 7, con la lettura dei quotidiani insieme al nostro direttore Marco Ferri. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci a domani.